Salve ragazzi, oggi farò un video sulla Stipoc in cui vi spiegherò la cilda della fortuna Allora, prima di tutti, una volta che siete arrivati all'endgame dovete scegliere se andare sulla cilda della fortuna, il circolo della fortuna o dei mercanti Dipende, io ho provato il circolo della fortuna, è molto interessante, aiuta molto in realtà Intanto, prima cosa dovete andare all'osservatorio che si trova nella Divine Era E' qua ragazzi, eccolo qui, su questa zona qui Andate all'osservatorio E qui potete fare diverse cose, adesso vi spiego come funziona Sostanzialmente come funzionano le cilde, premendo il tasto Y e viene fuori questo menu Più uccidete i mostri, più guadagnate favore Il favore a cosa serve? Ogni volta che aumentate di favore, vi da un bonus E sono tutti i bonus che aumentano il drop degli oggetti Quindi il primo vede enemy, i nemici hanno il 35% di droppare il doppio degli item Eccetera eccetera, fino ad arrivare agli ultimi, sono arrivato al terzultimo So per prendere il penultimo Che già vi dice, quando un item dei set viene droppato Ce ne droppa un altro istantaneamente L'ultimo, quando faccio una profezia, viene duplicata Adesso poi questo vedremo come funziona la profezia, è una cosa particolare Ok, quindi mentre fate questo aumentate la vostra favore E fate, eccoli qua su, i favori sono questi punti qua sopra Cosa ci fate inoltre con i favori? Allora, prima cosa che potete fare è andare qui E scambiare degli oggetti con un costo di favore Eccolo qua, vedete, costo 4200 O costo, vedete, 4200 Costano, dipende, 8300, una mule, eccetera eccetera Sono degli oggetti che già hanno delle... non è proprio random Già vi fanno vedere le proprietà che hanno E possono essere più o meno utili, ma sostanzialmente poco utili Poi ci sono le lenti Le lenti, adesso vi farò vedere Queste aumentano o diminuiscono una probabilità Nel sopra, nell'osservatorio Allora, per esempio, questi idim qui Che costano poi comunque, vedete, dei favori Anche qui, 500 fino a 1500 se non sbaglio 800, 1250 Vi dice, per esempio, il 100% di ridurre È la probabilità che viene fuori una profezia Con la corruzione negli eventi Questo per cosa serve? Vi va ad escludere Che quando voi prendete una profezia Per esempio, può essere una profezia Con un evento di corruzione O con un evento della campagna O un dungeon, eccetera, eccetera Quindi escludete quello che non volete fare È comodo Quest'altra qui, invece, sono degli altri modificatori Che aumentano Vedete il doppio Vedete, costa il 90% in più Ma vi dà il doppio dei premi Questo ha il doppio degli effetti Quando prendete dell'esperienza O il 15% di trovare un oggetto unico Di rank superiore O un esaltato Un exalted Oppure un oggetto Dei set E ci sono queste altre, invece, che sono un po' più semplici Perché, per esempio, aumenta il 20% Di trovare Questo tipo di oggetto qui Quello che vi serve a voi Per esempio Se dovete stare cercando un oggetto in specifico Ce lo mettete E aumenta la probabilità di trovare quell'oggetto lì Una volta che avete preso le lenti Andate qui sull'osservatorio E' diviso in Vedete In telescopi Idolo Armature Armi E accessori Adesso vi faccio vedere accessori Per esempio Io su accessori Ho Questo slot qui Ce lo libera Quando arriviamo al nono rank Al rank Quindi all'ultimo No, al penultimo E io ho messo, per esempio, già due slot Che questo qui non me li fa vedere Però adesso vi faccio vedere io No Li tiro fuori da qui Perché non ce li fa vedere Io ho messo, per esempio, il 100% di probabilità Che mi toglie le missioni della campagna Il 15% di probabilità che trovo un oggetto unico Quindi Quando vado a fare, diciamo, queste No favori Queste profezie Ho queste probabilità in più Come funzionano le profezie? Hanno un costo, vedete 3.750 di favore 1.700 1.500 Quindi a seconda di quello che prendete Cosa? Come funziona questo favore? Ci dice Uccidi un Cronomancer Yulra In un Temporal Sanctum Tier 2 E ci da Quattro Jewelry Jewelry Leggendari Oppure in questo caso Sarebbero Anelli Uccidere un Shade of Roboris A Corruzione 150 E ci da Due amuleti Leggendari Quindi cosa succede? Che se io vado a prendere questo Per esempio Spendo E questi sono tutti i favori che mettete da parte Ne avete un tot che potete prendere E non sono infiniti Però sono parecchi Qual è il mio consiglio? Io per esempio ho notato che Accumulare quelli dell'arena Sono molto convenienti Perché se riuscite ad accumulare Diversi profezie Tutte nell'arena Nel momento in cui L'andate a fare Vi Da un sacco di Di oggetti tutti quanti insieme E li vedete subito perché c'è sopra La Diciamo La La combattimento Qui sopra Liconcina I favori come li vedete Prendete il tasto Y Le vedete su profezie Scusate Le profezie E li vedete qui Le potete anche cancellare Quindi per esempio O Chamber of Vessel O Dice sempre Uccidere un Maiasa Oppure un Questo mostro qui A Temporal Sangdom Tier 3 Più ne riuscite Vedete per esempio Questo è tier 3 Questo è tier 4 Più ne riuscite a mettere Nello stesso Diciamo Livello Più I bonus Vi vengono Di tutti quanti insieme Quindi se andate a fare Questi livelli qua Specifici Al Diciamo Andate a fare Diciamo Questo requisito qui Vi da questi oggetti qui Quindi cercate di Metterli tutti quanti Più o meno A Insomma Qualcosa che riuscite a fare Per esempio Non vi conviene Metterne troppi Su Il Per esempio Cioè Light Harbor Che alla fine Vi fa spendere Le monete Per esempio Non vi conviene Più di tanto Perché Come vi posso dire Non Non riuscite a A sfruttarlo Boys Il dungeon Se lo fate O il Temporal Che alla fine Dovete modificare Un oggetto leggendare Se non lo dovete fare È inutile Invece per esempio Un soulfire È ottimo Perché ogni volta Che lo fate Vi ha dei punti Che potete spendere Sempre L'arena pure è ottima Arena e soulfire Sono i migliori E la corruzione Anche se Non è sempre facile Da Diciamo Riuscire a fare Quello che vi chiede È Un ottimo Modo Per Fare un sacco Di oggetti Se ne possono fare Veramente tanti Se si riesce A fare Veramente tanti oggetti Soprattutto perché Vi spara Veramente una quantità Di oggetti Leggendari Grossa È vero che Dipende dalle build Che fate Questo non è un gioco In cui I leggendari Si utilizzano tantissimo Non è che Avete build Che sono pieni Di leggendari Per esempio La mia Ne avrà due E basta Però ci sono altre build Per esempio Una build Che vorrei fare Che ne ha tre o quattro Di leggendari Che tra cui uno Non riesco a trovare Che per esempio È più interessante Quindi riuscite Magari più facilmente A fare A trovare Quegli oggetti Che vi serve Magari se non volete Leggendari Cercate Gli exalted Che tra l'altro Costano anche Un botto meno Anche se qui Fondamentalmente Vi ripeto È più Un po' più Per i leggendari È questa Tipologia qua Di Le profezie Diciamo Anche se comunque Gli exalted Ci sono Ci sono E li potete fare Comunque Sono più semplici Da fare Ovviamente Per esempio Vedete qua C'è sempre l'arena Tier 4 Per esempio Comunque Credo e spero Che il video Vi sia piaciuto Che avete capito Come funziona Il circolo Della fortuna Sto arrivando A livello 100 Mi è rimasto poco Poi farò un altro video A livello 100 E poi vi dirò Cosa ne penso In definitiva Di questo gioco Credo che Per settimana prossima Dovrai riuscire A fare Il video Un altro video Su Riguardante La Stipoc Ragazzi Grazie della visione Ci vediamo Per il prossimo video